ebbene è giusto che questo pacco scenico conosca anche momenti diversi rispetto alla bellezza con noi c'è Tira Spenda, progetto per l'onese della serista Carmine Sessa, nasce all'unione di musicisti con l'esperienza di alto livello, la band che ha aperto il festival show in Arena di Verona il 9 settembre e dopo centinaia di concerti tra cui tra questi il teatro di Maros, Castello Scalicero di Villafranca, festa di Santa Viola e saluto prossimo alla festa dell'Uva di Bartolino. A maggio l'esodio discografico con il bravo ho imparato una canzone con feature in me della cantante Lodia che spero di aver pronunciato bene, che a distanza di tre settimane dall'esodio, pensate, li vede scendersi nelle classifiche delle radio italiane come artisti esordenti e a breve il loro secondo lavoro discografico. Amici del Salve a tutti. Che non hanno imparato solamente una canzone, le canzoni le hanno imparate tantissime. Prego. Salve a tutti. Che non ha imparato solamente una canzone con tutti i tempi non esce più. È una melodia che piace, una di quelle che va su e giù. Prova e ritrovo la parte senza la voce che trema un po'. Ma se mi metto d'impegno, sono sicura che ce la farò E allora che è strana, con magna, con un rinno che hai Forse questo è solo un sogno, vivi lo compro Hai preparato un architone, e adesso andrei con te Se ti aspetta un'emozione, se no andrò perché La veloce stai mi dice, dai bravo anche tu, e canta con me Ma farà solo un architone, ma farà anche per te Questa musicale c'era, ormai mi è preso e non se ne va È la voglia di cantare, e i miei amici sono tutti qua Dove riprodo la parte, sento la voce che trema un po' Ma se mi metto d'impegno, sono sicura che ce la farò E allora che è strana, mi accompagna, con un rinno che hai Forse questo è solo un sogno, vivi lo compro Hai preparato una canzone, e adesso andrei con te Se ti aspetta un'emozione, se no andrò perché La veloce stai mi dice, dai bravo anche tu, e canta con me Ma farà solo un architone, ma farà anche per te Paggno Anni Hai preparato una canzone Hai preparato una canzone Allora, bella musica, bella musica, grandi sonorità, una bella voce e una bella presenza Che fate? Mi fermate qua? Le cose belle durano poco in pratica, è vero? Eccoci, bene, complimenti, e lei la portavoce proposta su campo Allora, diciamo, prossimi progetti, prego Allora, prossimi progetti abbiamo un sacco di live qui, appunto il 9 ottobre ci esibiamo nei cantieri dell'arena E poi c'è in cantieri un secondo singolo, quindi ci stiamo lavorando e uscirà entro un mese Bene, allora, non possiamo far altro che inaugurarvi successo Grazie In bocca al lupo, non credo No, no, no Evviva il lupo, anzi, evviva il lupo Grazie a tutti Ok, grazie, grazie davvero Il solito, quando ci sono momenti così, gli aggettivi bisognerebbe inventarseli Però, amici del pubblico, quando una mente dà prova, diciamo, di saperle suonare Ebbene, credo che anche gli aggettivi possono essere intuitivi E' il pubblico a giudicare ed è il pubblico ad approvare Signore e signori, bene, dopo questa mente non può mancare una, anzi, la...